Buonasera, bentornati su videorun.it e in particolar modo sulle break news. Seconda giornata delle Olimpiadi Tokyo 2020, seconda naturalmente sul piano agonistico. Tante le gare che hanno visto impegnati i nostri italiani, in parte nelle qualificazioni, nelle semifinali e nelle finali. E soprattutto, come in tanti già sappiamo, tre importanti bronzi che si sono uniti alle altre due medaglie. In totale abbiamo raggiunto quota 5 e una sesta posizione nel medagliere olimpico. Ma entriamo subito nel vivo di quelle che sono state le gare a cui abbiamo assistito oggi e che hanno visto impegnati i tanti italiani. Partiamo un po' da quelle che sono le note dolenti. E quindi cominciamo subito con il tiro a segno che purtroppo non riesce ancora a darci delle soddisfazioni. Anche nella carabina 10 metri maschile, baci e suppini eliminati alle qualificazioni. Si aggiudica loro gli Stati Uniti d'America. Nel canottaggio doppio femminile, sia Patelli che Ondoli eliminate in semifinale. Ma rimanendo comunque nel canottaggio arrivano delle belle sensazioni nel singolo maschile con Di Mauro qualificato in semifinale. E nel canottaggio 4 di coppia femminile. Un piccolo colpo di fortuna che vede Iseppi, Montesano, Lisi, Gobbi ripescate e qualificate per la finale. Basket maschile dopo tanto tempo di assenza alle Olimpiadi. L'Italia torna e torna contro la Germania dopo una partita dura, lunga, difficile. Ma alla fine è l'Italia che passa avanti vincendo per 92 ad 82. Rimanendo nel basket, 3 per 3 donne. Ancora una volta si replica quello che è stato il risultato di ieri. Una vittoria contro la Romania per 22 a 14 ed una sconfitta con la squadra vicina di casa, la Cina, perdendo per 22 a 13. Buonissima anche la prova nel tiro a volo. Skit maschile e femminile Cassandro e Rossetti. Terzo e diciassettesimo posto con rispettivamente 74 su 75, 72 su 75. Mentre in campo femminile Diana Bacosi al primo posto con 75 su 75 e segue Chiara Cainero 24esima con 67 su 75. Ricordiamo che sono sempre qualificazioni. Nel tennis femminile la Giorgi vince per 2-7 a 0, 6-3 e 6-2 e passa il primo turno. Meno fortunata invece la Polini che perde contro la Cavitova. Nel tennis doppio invece Errani e Paolini si aggiudicano il primo turno. Surf maschile, fiora avanti, passa avanti e si qualifica per il terzo turno. Nel softball invece l'Italia perde contro il Messico per 0 a 5. Grande prova nella pallavunuto maschile, un'Italia straordinaria che domina letteralmente il Sudafrica per 21 a 2. Il volley femminile, grande partita delle nostre ragazze che non lasciano nessuna speranza alla Russia battendole per 3-7 a 0. Rimanendo ancora nel volley ma con lo sfondo tutto sabbioso, beach volley molto bene Lupo e Nicolai che vincono per 2-1 contro la Germania. Meno positiva invece la partita per Rossi e Carambola che perdono contro gli Stati Uniti d'America per 0 a 2. Canoa, slalom, donne, Stefani Horn si piazza al quarto posto con un ottimo 104,79 punti. Nella box invece 48,51 kg e Sorrentino a passare il primo turno battendo la Venezuelana. Oggi prima giornata anche per quanto riguarda i tuffi, i tremeti, Tampolino, purtroppo Bertocchi e Pellani chiudono la loro gara al settimo posto con 267,48 punti. Un vero peccato perché non si sono allontanati moltissimo da quello che è stato il bronzo tedesco che si è portato a casa la medaglia con 284,87 punti a vincere e ad aggiudicarsi il grino più alto e sempre la Cina. Una brutta parentesi nella scherma per quanto riguarda il fioretto sia maschile che femminile. Si arresta la corsa di Alice Wolpe che porta a casa la medaglia di legno battuta dapprima in semifinale dalla russa Deriglazova e poi ancora una volta dalla russa Korobbe Ginkova. Non succedeva da Seoul del 1988 e purtroppo medaglia di legno anche per Andrea Santarelli. Tanti, tantissimi colpi di scena invece per quanto riguarda il nuoto maschile e femminile. Partiamo dalla fase delle qualifiche, delle batterie. Nei 100 metri d'orso, Uomini, Ceccon riesce a passare per la semifinale, eliminato invece Sabbioni. Nei 200 stili libero, Uomini, Ballo e Cola entrambi in semifinale. 100 metri rana donne, la Carraro vola in semifinale, colpo di scena per la Pilato che invece viene squalificata. Ma a sua detta la gara era già cominciata male, certamente un risultato che non ci aspettavamo da parte di colei che ha fatto suo pochi mesi fa il record del mondo. Primo esordio alle Olimpiadi e sicuramente un pizzico di emozione ci ha messo lo zampino. 100 metri d'orso, femminile, Pansiera, vola anche lei in semifinale. Semifinali, 100 metri farfalla, femminile, Diliddo e Bianchi, entrambe eliminate, rispettivamente. 13esimo e 15esimo posto. 4% stile libero, Uomini, una grande Italia qualificata per la finale ma soprattutto qualificata con il nuovo record italiano. 3 minuti, 10 secondi e 29 centesimi. Semifinali, 100 metri rana, Uomini, ancora grandi notizie da parte di Martin Enghi che vola in semifinale e lo fa anche lui con il record italiano, 58 secondi e 28 centesimi. Eliminato invece Poggio. Finale, 400 stile libero, Detti non riesce a replicare la medaglia di Rio e chiude la sua gara in sesta posizione. Finale, 400 misti, razzetti, ottavo in campo maschile e ottavo posto anche per la Cusinato in campo femminile. Piccola parentesi anche per quanto riguarda la 4% stile libero donne dove non avevamo nessuno a rappresentarci in campo italiano ma comunque un grande applauso all'Australia che si conquista l'oro e lo fa con il nuovo record del mondo. 3 minuti, 29 secondi e 69 centesimi. Ma passiamo a quelle che sono le notizie che hanno reso questa domenica sportiva, questa domenica olimpionica certamente molto bella e che hanno stampato sul volto di tutti gli italiani un grande sorriso. Partiamo da quello che è stato sicuramente lo sport di punta di questa seconda giornata sportiva delle Olimpiadi Tokyo 2020. Una grande prova nel ciclismo femminile a firma dell'austriaca Anna Kisenhofer. Quando l'oro era praticamente già stato aggiudicato idealmente all'olandese Van Vluten la più accreditata per quanto riguarda il gradino più alto del podio poi alla fine arriva a sorpresa questa medaglia austriaca. Una medaglia del tutto meritata da parte di questo atleta che ha praticamente dominato la gara fin dal primo metro gareggiando praticamente da sola. Ma grande, grandissima prova anche della nostra atleta di punta, la Longo Borghini che è stata già bronzo al Rio 2016 e torna quest'oggi a Tokyo e si prende ancora una volta il terzo gradino del podio. Una medaglia certamente sofferta in particolar modo per un ultimo mese, quello di giugno particolarmente tribolato ma oggi a sua detta, a corso con il cuore. Dato che noi siamo un sito che di cuore ce n'è sempre messo tanto e continuerà a mettercelo e al cuore da sempre un posto in prima linea, non potevamo che sottolineare la grande prova di carattere di quest'atleta che oggi ha davvero fatto una grandissima gara e la ringraziamo per le splendide emozioni che ci ha regalato. Emozioni che non sono finite perché poco dopo ci arrivano proprio dal judo, in particolar modo da Odette Giuffrida che dopo aver perso contro la giapponese Abe e quindi aver dovuto dire addio alla possibilità di potersi conquistare l'oro cosa che naturalmente avrebbe voluto dopo l'argento di Rio 2016 tuttavia torna in pedana e con estrema freddezza va a prendersi il suo meritato bronzo. Infine l'ultimo bronzo ma non meno importante ci arriva sicuramente dal sollevamento pesi ed è anzi ancora più importante perché non avveniva da ben 37 anni ed è Mirko Zanni l'atleta di Pordenone già campione europeo a riportare il sollevamento pesi sul podio olimpico. Grande prova di questo ragazzo ricordiamo categoria sollevamento pesi 67 kg. Si chiude con lui questa rassegna della seconda giornata agonistica Tokyo 2020 grazie per averci scelto, grazie per averci seguito e alla prossima giornata. Speriamo sempre piena di emozioni, quelle di cui viviamo e quelle che speriamo di potervi regalare ogni giorno insieme a noi. Videran.it vi saluta. Speriamo sempre piena di emozioni, quelle di cui viviamo e quelle che speriamo di potervi regalare ogni giorno insieme a noi. Ciao a tutti